L'arte si sa, soprattutto quella contemporanea, non è per tutti, ma quello che è accaduto a Bari è davvero paradossale. Alcune opere, esposte nella sala Miorà di Piazza del Ferrarese, del valore di oltre 10.000 euro, sono state scambiate per cartoni da imballaggio da una detta delle pulizie, che ne ha fatto un bel mucchio e l'ha consegnato al camioncino dell'Amiu che raccoglie carta e cartone. Il prezioso carico è finito così in discarica, pronto per il macero. Quando i curatori della mostra Display Mediating Landscape hanno riaperto la sala delle esposizioni a Bari Vecchia ed hanno scoperto le opere mancanti, in un primo momento hanno pensato ad un furto, poi però, interpellata la donna delle pulizie, hanno fatto 2 più 2. Tra le opere d'arte scambiate per rifiuti e forse già distrutte ci sono sette dischetti in sughero dell'artista Nicola Gobbetto, fogli di carta con cornice di David Jablonowski e alcune pubblicazioni dell'associazione Flip di Napoli.